ciao e bentornati al canale alla bocca impastata perché sta mangiando le patatine della recensione precedente non vi diciamo qual è allora si avvicina pasqua e qui abbiamo questo meraviglioso cuore kinder con ranocchia che non avevo mai visto abbiamo scelto perché era una ranocchia c'erano anche altri animali ma abbiamo scelto la ranocchia allora che cosa ci sia dentro non è facile saperlo perché non c'è né checklist né l'identificativo né una scatola per capire se è di qualche collezione particolare quindi ipotito vediamo come l'inter c'è scritto kinder e questo lo sappiamo allora è vero scusa non ho capito che c'era scritto kinder sul cioccolato di come se fossi un nome e lei deve sfondare se non è scontenta e papà deve assaggiare non è contento contenta una bocca al forte eh vediamolo insieme aspetta che metto la checklist butta tutto per terra che vediamo insieme no sul tavolo allora dei fiori questo lo mettiamo qui allora qualcosa che deve abbattere qualcosa ma me sa di averlo già visto anche me sa di avere già visto un pulcino sullo skateboard ah quindi sono le sorpresine pasquali quindi sappiate che qualsiasi uovo prendete vi potete trovare ma non l'aventrata troverete solo il pulcino sullo skateboard ma scusa quale abbiamo fatto in che ovetto era quello col pulcino un ovetto normale che sto elaborando era un uovo grande no con il dietro verrà con il dietro quindi sappiate che cuore con il dietro altro troverete che forse abbiamo anche qui da qualche parte vediamo se lo trovo però la recensione la mettiamo lo senso perché è come dire non è che tutte possono andare sempre bene giusto e quindi lo facciamo come non in tutte le sorpresine ma quanto dobbiamo da fare ancora mamma mia è in fondo da qualche parte abbiamo una scatola con tutte le sorpresine eccolo qua ciao doppio pulcino che abbatte doppi alberi letterbozzo 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 noi abbiamo oh non è spaventare uovetti avatar uovetti e chi più ne ha più ne metta quindi abbiamo le due galline o pulcino pulcini anche ovetti miracolus ovetti miracolus ancora cose delle più mille di super mario tacco di cose che non riusciamo a fare e questo è quanto un doppione questa è una cosa che succede anche nelle migliori famiglie come si dice si suol dire e quindi è andata così quindi vi ricordo di iscrivervi al canale metto un like condividere commentare schiacciare la campanella per le seggiornate su tutti i video e come sempre noi vi sentiamoci a un prossimo video ciao